La conduttrice, immobiliarista più nota e determinata della tv, è stata ad Alessandria in occasione dell'inaugurazione del nuovo reparto Outlet Store, allestito al piano superiore di Lombardi Lampadari, lo storico negozio di via Montegrappa 50. Quando si parla di lei, si parla di stile e di buon gusto, di saper fare ordine, ma anche di saper sdramatizzare, al tempo stesso, un ambiente. Questa è l'elegante filosofia di arredamento che la professionista per eccellenza del design ci trasmette attraverso i programmi che conduce su real time. Abbiamo cercato di creare un'idea di rinnovamento con dei bassi budget, perché noi quello che abbiamo proposto fin dal 2009, un po' quando abbiamo sdoganato il concetto dell'home staging, cioè del rifacimento, del restyling di una casa, però sempre con dei costi ridotti, perché è un po' la base della politica di real time, ma soprattutto molto adeguata a questo momento di grande crisi. Senza mai perdere però di vista il gusto, l'eleganza e la fantasia, che sicuramente fa parte del gusto personale di chi abita la casa. Paola Marella è un simbolo anche per me, quindi quando la guardo in tv ho sempre pensato che il suo lavoro lo faceva con amore, un po' come lo facciamo noi. E quindi poi facciamo praticamente lo stesso lavoro e mi sono sentito di contattarla. Grazie. 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 Grazie.